... Momenti di panico sono stati vissuti verso le ore 11.30 di ieri alla stazione De Lentini per il deragliamento del treno espresso Torino-Siracusa. I passeggeri e dei macchinisti del convoglio ferroviario fortunatamente sono rimasti lesi. Il deragliamento è avvenuto subito dopo la partenza dell'espresso Torino-Siracusa dalla stazione De Lentini. La motrice, percorso appena qualche centinaio di metri, precisamente nella zona in cui avviene lo scambio dei binari, è finita fuori dalle rotaie. La causa è ancora da accertare ed in tal senso i tecnici si sono messi subito al lavoro, anche se tra le ipotesi che in questa primissima fase sembra privilegiata sia quella legata ad un possibile malfunzionamento dell'impianto. In quel momento il convoglio ferroviario precedeva molto lentamente e questo ha contribuito ad evitare conseguenze ben più pesanti. Il macchinista, infatti, resosi conto di quanto stava accadendo, è riuscito a bloccare la marcia del convoglio e quindi ad evitare che deragliassero anche i vagoni ferroviari sui quali si trovavano solo i viaggiatori diretti a Siracusa. Sullo luogo sono prontamente intervenuti i tecnici delle ferrovie che hanno provveduto subito a mettere in sicurezza il convoglio ferroviario staccando le carrozze dei passeggeri dalla motrice. Per evitare che i viaggiatori restassero bloccati alla stazione di Lentini, è stato tempestivamente organizzato un servizio sostitutivo di pullman con il quale è stato possibile raggiungere il capoluogo a Reduseo. Dalle 11.30 di ieri, quindi dalla stazione di Lentini, non è transitato alcun convoglio ferroviario. I collegamenti con la stazione di Catani e viceversa sono stati assicurati con dei pullman. Per rimuovere il locomotore deragliato, i tecnici hanno lavorato per tutta la notte e si spera che il servizio possa essere ripristinato nella giornata di oggi.